Uccide la figlia minorenne ed un uomo e tenta di uccidere la moglie. Il bilancio della furia omicida scatenata nella notte in una palazzina di via Togliatti a Torre Maggiore nel Foggiano. Dal presunto assassino un panettiere 45enne di origine albanesi fermato dai carabinieri. La donna trasportata al policlinico riuniti di Foggia è ricoverata con prognosi e riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Il movente del delitto sarebbe riconducibile ad una presunta relazione tra la vittima, un commerciante 51enne Massimo De Santis e la moglie del presunto assassino. Secondo le prime ricostruzioni il delitto è avvenuto intorno alle 2 del mattino. L'uomo è stato accoltellato mortalmente sulle scale dello stabile. Il presunto assassino sarebbe poi entrato in casa con l'intento di uccidere la moglie ma ad avere la peggio è stata la 16enne intervenuta per difendere la madre. La donna è riuscita a scappare e a chiamare i carabinieri che giunti sul posto hanno subito bloccato il panettiere 45enne e recuperato l'arma del delitto, un coltello da cucina. Continuano i sopralluoghi degli investigatori e del magistrato della procura d'Auna per fare maggiore chiarezza su questa tragedia.